Musica Sai da dove arriva la vera leggerezza? Direttamente da Madre Natura Nel cuore della Sila Piccola, in un parco incontaminato, sul monte Reventino L'acqua piovana si infiltra e scorre nel sottosuolo Attraverso rocce granitiche cristalline che la rendono purissima Così nasce l'acqua oligominerale più leggera a sud delle Alpi Acqua Sorbello, l'unica così leggera Musica Mangiamo un buon gelato, bagnato a San Marciano L'infuso che ho portato dall'Oriente per te E più dolce tu sarai, il mio cuore sentirà San Marzano La luna scende giù, la stella già sei tu Con Borschi San Marzano Borschi San Marzano, il segreto di mille sapori Il tuo kit di bellezza sta finendo Amica mia, rilassati C'è splendidisplendenti.it Come nel punto vendita, trovi tutto per il benessere della persona e la cura della casa Puoi scegliere tra la consegna a domicilio o il ritiro in negozio E paghi comodamente online Rilassati con il tempo risparmiato Splendidisplendenti.it Facile, comodo, online Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti